Crescono da 400 a 1000 gli addetti nei centri per l'impiego della Toscana dove viene creata anche una nuova figura professionale, quella dell'addetto all'accoglienza per guidare il cittadino nei primi passi per la ricerca al lavoro. Sono questi i punti più importanti del protocollo d'intesa firmato in regione Toscana dal presidente Eugenio Gianni insieme all'assessore regionale al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini e ai sindacati CGL Cisle Will. Nei 53 centri per l'impiego in Toscana transitano ogni anno 300.000 utenti e 20.000 imprese. Questo protocollo è un po' la base di indirizzo su cui noi vogliamo lavorare nei prossimi mesi, nei prossimi anni con sempre un metodo che è quello della concertazione e del lavoro insieme al movimento sindacale. La Regione Toscana, con Arti, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, investe sul mondo del lavoro in piena pandemia per accrescere le possibilità di incontro tra domanda e offerta. Per noi questo è un passaggio importante per migliorare la quantità e la qualità di servizi offerti in materia di politiche attive del lavoro per le cittadine e per i cittadini della nostra regione. Ovviamente questo è importante oggi più che mai in un momento in cui migliorare l'incontro tra domanda e offerta, salvaguardare e creare posti di lavoro è per noi fondamentale anche per la ripartenza della Toscana in un momento difficile come quello che stiamo attraversando. Il Presidente Gianni ha annunciato un nuovo appuntamento annuale per fare il punto sulla situazione nel mondo del lavoro. Dal prossimo anno faremo un giorno dedicato a Arti, dedicato al lavoro e sarà l'occasione nella quale attraverso una relazione generale ci renderemo conto di anno in anno qual è l'andamento e le modalità non solo numeriche ma proprio di relazione umana con cui riusciamo a creare le condizioni per un intreccio sempre più forte fra la società civile, il mondo della formazione, la scuola, i giovani e il mondo del lavoro.